Ciao a tutti, bentrovati sulla pagina di Creo. Anche oggi siamo pronti per una nuova e interessantissima diretta con quella che io chiamo la parte dolce di Creo. L'ospite di oggi infatti è Emanuela Filippelli, come potete vedere. Emanuela collabora con Creo dal 2019 e tra le tante cose di cui si occupa è giornalista pubblicista e docente di public speaking al Festival della Formazione e dell'Apprendimento Continuo Maestri Fuori Classe, che colgo l'occasione per ricordarvi, quest'anno potrete seguire qui sulla pagina di Creo a partire dal 5 giugno. Ti lascio subito la parola, Ema, e ti chiedo che cosa significa parlare in pubblico. Grazie Bianca, buonasera a tutti. Partiamo proprio dal dare un significato proprio a questa espressione, parlare in pubblico, perché molte volte tornare all'origine ci suggerisce un po' la strada da percorrere. Parlare sappiamo bene che significa che c'è alta i nostri pensieri, le nostre emozioni, comunque pronunciare dei suoni compiuti, le parole. Se andiamo a vedere nell'etimologia della parola andiamo a rintracciare termini come parabolare, la parabola, quindi la comparazione, l'analogia, la narrazione. E questa è una cosa importante da tenere in considerazione perché quando parliamo in pubblico narriamo, narriamo delle storie. Quando penso al parlare mi vengono in mente due figure mitologiche greche, due messaggeri degli dèi, Hermes e Iride. Giocando un po' insieme a Platone, che in alcuni suoi dialoghi si è divertito a ritrovare l'etimologia dei nomi, sono andata a ripescare l'etimologia del nome di Iride. A questo nome viene collegato il termine dire, il termine arcobaleno, perché appunto è la messaggera, è la dea dell'arcobaleno, proprio questo suo ponte tra il cielo e la terra. E vengono anche associati termini come parlare e messaggero che sono associati anche al nome di Hermes. E una delle commentatrici, diciamo, dei dialoghi di Platone, Maria Teresa Gatti, scrive «Viene messa in evidenza, proprio nel nome di Iride, la fascinante divinità, dalle grandi ali, immaginatela con queste grandi ali, con questi piedi molto veloci, più del vento, che unisce cielo e terra e il parlare, il comunicare messaggi che realizza secondo ordine e bellezza, la comunicazione di realtà, piani e soggetti differenti e distanti». Quindi proprio questo collegamento tra il cielo e terra, parlare, dobbiamo ricordare che in qualche modo ci trasformiamo anche noi in messaggeri. E passiamo alla seconda parte dell'affermazione, parlare in pubblico, perché ovviamente ha senso parlare in pubblico, ma proprio nella comunicazione acquista l'importanza, il fatto che noi diciamo a qualcuno, parliamo a qualcuno. Nel parlare in pubblico utilizziamo l'in, anche se poi quando compiamo quest'atto dovremmo cambiare invece che in usare con o a, perché noi mentre parliamo in pubblico dobbiamo ricordarci di parlare con il pubblico, parlare ad un pubblico, perché l'essenza proprio del parlare in pubblico, con un pubblico, la vera essenza è quella di dare. C'è l'atto del donare, innanzitutto. Dovremmo proprio ricordarci più spesso di questo, perché tante volte più il pubblico è ampio e più quello che poi magari si va a creare è un monologo. Invece dovremmo sempre ricordarci che ci deve essere uno scambio, un'interazione. Altrimenti viene proprio a cadere l'atto in sé. Esatto, sì. Ti voglio chiedere, Emma, com'è stata per te la prima volta che hai parlato in pubblico? Sei stata subito spigliata o anche tu, come noi, hai avuto qualche... Allora, qualche difficoltà. La cosa strana che mi è capitata, diciamo, è che quando, se io ricordo quando ero un po' più giovane, per dire anche alle medie o alle superiori, io non avevo grossi problemi, nel senso che anzi mi facevano sempre leggere ad alta voce, ero molto a mio agio. Diciamo che la crisi è venuta fuori andando all'università e adesso che tu mi hai fatto questa domanda mi è venuta proprio in mente la prima immagine, la discussione della tesi di laurea. Io penso che... Un momento, un topico. Topico e lì ho scoperto appunto questa grande insicurezza, questa grande ansia e questo a dire che appunto questa paura, questa ansia non ha tempo, può essere... noi ce l'abbiamo dall'infanzia ma anche purtroppo come le allergie possono arrivare anche con l'età. e io se penso a quell'esperienza ricordo innanzitutto il pre, l'aspettare. Non so se voi avete visto, se vi è capitato di vedere il film Melancolia di Las Fontries. Praticamente è stato girato molto dopo che io mi sono laureata, però adesso mi è venuto come un flesso questa similitudine. Queste donne aspettano diciamo l'arrivo del pianeta Melancolia che andrà proprio a collidere con la Terra e quindi si vede notte dopo notte che loro controllano la luna e la vicinanza di questo pianeta che si avvicina sempre di più, sempre di più, si avvicinava sempre di più il giorno della discussione, panico. Durante la discussione ricordo un feedback che mi diede mio fratello e mi rimase molto nella memoria. Non ti ho riconosciuto, avevi una voce tipo un robot. Praticamente ero, cioè questo per me è stato... Che da te è stranissimo. No, per me è stato proprio strano perché io non avevo assolutamente consapevolezza di nulla e quindi quella è stata veramente, come dire, è stata traumatica ed è strana, molto strana la vita perché io poi ho lavorato molto per molti anni a teatro e lì avevo ovviamente molta più dimestichezza nel lavoro corporeo, nell'espressività corporea, mentre facevo una difficoltà in male a pronunciare anche un suono. Io non cantavo neanche sotto la doccia. E stranamente la vita ti gioca veramente degli scherzetti. Mi sono ritrovata oggi ad essere una trainer vocale, ad essere un'allenatrice di public speaking e questo per dire che laddove ci sono dei limiti ci sono veramente delle grandi possibilità che se affrontate, diciamo, con coraggio, con voglia di mettersi in discussione, con voglia di accettare le cadute, possono risultare delle grandi sorprese. È vero, sì, dovremmo sempre sfidare noi stessi e metterci alla prova senza precluderci niente perché tante volte si pensa, beh, io non so fare questo, non so fare quest'altro e quindi quella strada non potrà mai essere la mia. Invece, come nel tuo caso, poi si è aperto un mondo. Perché però si crea in noi quest'ansia quando sappiamo di dover parlare ad un pubblico, grande o piccolo che sia. Pensi che sia solo una questione di timidezza o c'è anche dell'altro? Allora, guarda, rispondo alla prima parte che hai detto grande o piccola che sia. Consideriamo veramente che l'ansia del parlare in pubblico, la paura del parlare in pubblico viene definita una paura democratica perché colpisce appunto indistintamente molte persone, anche persone personaggi, no no, appunto questo per molti personaggi anche famosi, anche dello spettacolo, anche che hanno quotidianamente a che fare con l'esposizione. Addirittura c'è stata una ricerca di qualche mese fa della YouGov UK, un'organizzazione che si occupa di raccogliere sondaggi fatti sulla popolazione e questo sondaggio era sulle 13 paure che ancora tengono sveglie le persone in qualche modo, parlare in pubblico si è posizionato al terzo posto. Però lo merita, per me lo merita. Cosa succede? Tu parli di timidezza, non è solo una questione di timidezza, io dico che è anche questione di timidezza ma non solo, è anche una questione di insicurezza, è anche una questione di messa in gioco, di andare ad esperire qualcosa che ci ricollega con dei bisogni atavici, fondamentali. Noi abbiamo bisogno di essere accettati, abbiamo bisogno di appartenere, abbiamo bisogno di essere riconosciuti, in qualche modo di essere amati e sporci davanti ad una platea anche numerosa e anche non avere il controllo perché quando noi magari parliamo con un interlocutore, uno o due interlocutori, noi riusciamo in qualche modo a controllare le reazioni anche fisiche, emotive dell'altra persona che abbiamo di fronte. Ovviamente più si allarga la platea più noi perdiamo il controllo, non riusciamo più a percepire, a sentire, a capire quello che l'altro sta pensando di noi e qui si apre la paura più grande è quella di non essere accettato, di in qualche modo di non essere riconosciuto, quindi di essere poi espulso, addirittura si va a contattare un po' anche la paura della morte, perché in qualche modo morire nel ruolo che con così tanta fatica magari ci siamo costruiti, sicuramente questo destabilizza molto. Quindi a livello sociale. A livello sociale, infatti poi c'è chi ha più paura di parlare in pubblico con degli sconosciuti, chi invece sente questo disagio maggiormente quando conosce le persone. Io per esempio appartengo più a questa seconda schiera. Forse anche io, ritornando sempre alla discussione della tesi di laurea, io non ho voluto nessuno dei miei familiari o conoscenti ad ascoltarmi proprio per questo, per forse anche, non lo so, magari la paura di sbagliare e quindi deludere le aspettative. Poi con il steno del poi mi sono pentita, però lì per lì è stata quella la scelta. Sì, devo dire che le nostre menti costruiscono delle realtà straordinarie nel bene o nel male. Perché nascono queste ansie? Perché noi andiamo comunque a crearci delle convinzioni. Ci creiamo proprio una mappa fatta di tante convinzioni alle quali noi possiamo accedere per ritrovare la strada quando ci ritroviamo a rivivere quelle stesse esperienze. Diciamo sono quelle etichette che ci rassicurano. Il problema dove nasce è quando queste convinzioni nate dalla nostra esperienza, dall'educazione, dal tempo che abbiamo vissuto sono delle convinzioni che chiudono, che frenano, che fanno limitanti. E quindi che cosa succede? Noi queste convinzioni che di solito si costruiscono sul se, all'ora, andiamo a costruire questa nostra realtà. E che cosa succede? Noi come esseri umani abbiamo la capacità di percepire il tempo. Non siamo come gli animali che per loro passano dieci minuti o un'ora, una giornata, praticamente per loro la percezione è uguale. Noi abbiamo invece la percezione del tempo. Abbiamo la capacità di visione, di immaginare. Noi siamo grandi immaginatori, grandi creatori nel bene e nel male. Ovviamente quando queste creazioni nel futuro, queste nostre immagini sono deleterie, terrorizzanti, negative, ovviamente capiamo bene quello che provocano. E in più abbiamo la memoria. Noi memorizziamo. In qualche modo viviamo sempre un po' nel passato e nel futuro. La nostra mente non ha piacere a vivere nel presente, perché in qualche modo il passato gli dà la sensazione di poter rispondere alla domanda so chi sono, chi sono, perché recupero quello che è tutta stata la mia esperienza passata. Il futuro gli garantisce la sopravvivenza. Che cosa succede nel presente invece? Si apre il vuoto, si apre la possibilità, si apre il silenzio. Forse a volte il presente è ancora più incerto del futuro, perché magari sul futuro noi possiamo fare le nostre proiezioni, possiamo immaginarcelo in un certo modo, mentre questo non lo facciamo mai per il presente. Infatti a volte siamo con la testa fra le nuvole, non siamo mai concentrati realmente. Realmente. Credo che se facciamo un po' mente locale, difficilmente siamo totalmente presenti nel qui e ora, anche se quello ovviamente è l'allenamento che dovremmo portare avanti. Io faccio sempre l'esempio della doccia. Quando noi facciamo una doccia, a parte l'inizio che magari sentiamo l'acqua, la temperatura giusta dell'acqua, se il sapone ci va a finire nell'occhio. Dopodiché iniziamo a viaggiare, a ricordare quello che è successo oppure a immaginare quello che sarà dopo. E allora io ho iniziato, quando ho scoperto questa importanza dell'allenarsi allo stare nel qui e ora, ho iniziato ad usare la doccia come un mio allenamento, allo stare nel presente. Cioè sentire proprio la percezione dell'acqua, il sapone, l'odore. Basta all'inizio farlo per pochi istanti, poi questi istanti diventano secondi, minuti, finché diventa un'abitudine, una sana abitudine. È un buono spunto che possiamo prendere anche noi. Proprio a proposito del qui ed ora, mentre parliamo, io ho questa abitudine malsana a volte di, mentre parlo, o pensare a cosa dirò dopo, o addirittura, mentre proprio pronuncio la frase, pensare al modo in cui la stanno recependo gli altri, c'è chi mi ascolta. Quindi magari inizio a pensare, forse però avrei dovuto dire in quest'altro modo, forse non sono stata abbastanza chiara. E così facendo, quindi non concentrandomi effettivamente su quello che dico, poi si incasina tutto. Ti faccio una domanda, guarda. Alla tua domanda ti faccio un'altra domanda. Secondo te, qual è il soggetto nella comunicazione, nel parlare in pubblico? Se dovessi pensare, chi è il protagonista? Il pubblico. Il pubblico. Ok, allora, non è nel senso, io ho iniziato a riflettere e mi piacerebbe insomma che anche voi da casa faceste questo pensiero, a chi fosse veramente il protagonista dell'atto del parlare in pubblico. Il pubblico ovviamente è fondamentale, ma io mi piace pensare che il vero protagonista è il contenuto. Come dire, io soggetto, diciamo, agente, proponente del contenuto, devo fare, faccio un passo indietro, come dire, mi dimentico di me, dimentico di me e mi concentro totalmente su quello che è il messaggio, il contenuto, un po' come il sacro graal, no? Che devi passare al pubblico. Iniziare a prendersi cura del contenuto, come quando facciamo con un oggetto, no? Cosa facciamo quando ci prendiamo cura? Siamo lì, lo aggiustiamo, lo puliamo, lo scostiamo, lo osserviamo. Quando noi ci prendiamo cura di qualcosa o di qualcuno, provate a fare attenzione, insomma, a porgerci l'attenzione magari nei prossimi giorni, come noi ci dimentichiamo di noi stessi, ma nel senso più buono del termine. Quindi non abbiamo proprio più l'energia di poter pensare a come dico una cosa, a come faccio quella cosa, perché sono totalmente rapita dalla mia missione, in qualche modo, che è quello di riuscire a porgere senza far cadere questo sacro graal al pubblico. Sì, forse questo tipo di allenamento magari potrebbe aiutarci anche a lasciare da parte le nostre insicurezze. Che dici? Sì, sono perfettamente d'accordo. Proprio il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di lavorare su un cambiamento nel modo di pensare, come lo possiamo fare, cambiando anche il modo di osservare, iniziando ad osservarci e a osservare i nostri pensieri, osservare le nostre emozioni, osservare il nostro corpo, come reagisce, come vive. Attraverso questa osservazione riusciamo ad alleggerire un po' anche l'insicurezza o quantomeno a spostare l'attenzione. Probabilmente non andrà mai via forse la timidezza o l'insicurezza o l'ansia. E questo però non ci dovrebbe spaventare. Io tante volte mi ritrovo a fare questo pensiero. Alleno le persone appunto a parlare in pubblico, ma io comunque ogni volta sento quelle farfalle nello stomaco, quell'ansia. All'inizio quasi mi arrabbiavo con me stessa, perché non è possibile questa cosa. A un certo punto ho cambiato prospettiva e ho cominciato a immaginare un'altra parte di me, quella un po' più ansiosa, come una coabitante. Allora mi sono detta non è che io posso buttarla fuori di casa così all'improvviso. Cioè io credo che nessuno di noi, per quanto possano essere magari fastidiosi alcune caratteristiche dei nostri congiunti o dei nostri conviventi, non credo che riusciremo a buttarli così via, vai via fuori di casa, via. No, questo non credo. E che cosa iniziamo a fare? Iniziamo a restare, ad abitare insieme a lei, a porgli anche delle domande, a vederla sotto occhi diversi e a scoprire che l'ansia può essere anche positiva, perché può suggerirci anche una qualità energetica di concentrazione, una spinta a fare, a farci l'amica in qualche modo. Alla fine dici di imparare a sfruttare forse queste, chiamiamole debolezze, come punti di forza. Sicuramente sì. A proposito, un'altra cosa che ti voglio chiedere. Pensi che dovremmo anche imparare, diciamo, a ricalibrare le nostre aspettative in base a quelle che sono le nostre vere caratteristiche. Facendo un esempio, relativo alla scorsa diretta, quella con Vera Gheno, io guardando la diretta ho pensato, caspita, mi piacerebbe saper parlare come Vera, ma so che per il mio tipo di carattere, per quelle che sono state le mie abitudini, non avrò probabilmente questo piglio, questo modo di fare. Pensi sia una sconfitta oppure il fatto di ricalibrare le nostre aspettative possa invece portarci a migliorare e alla fine farci ottenere comunque un buon risultato. Non so se... No, no, credo di aver capito, poi magari aggiungi, insomma, se non ho centrato, insomma, non sono riuscita a centrare bene la tua domanda. Inevitabilmente tutti abbiamo dei modelli di riferimento e solitamente i nostri modelli sono quelli che meno ci assomigliano. Perché è quello che, in qualche modo, quello che sentiamo mancare in noi e vedere amplificato nell'altro, dici wow, anche io vorrei essere in quel modo. E da una parte, diciamo, avere dei modelli molto differenti da noi, io credo sia comunque positivo. Per esempio, nelle aule, quando appunto tengo le lezioni, io lavoro molto sull'imitazione, sull'andare nelle caratteristiche, nelle qualità molto differenti. Ma qual è l'obiettivo che io mi pongo e che auspico, insomma, che ciascuno possa riuscire a raggiungere? Quello di arrivare alla la propria autenticità. Riuscire a dare spazio, voce, corpo a quello che siamo. Perché sembra retorica, ma se siamo nati in un certo modo ci deve essere un motivo e se siamo qui ci deve essere un motivo. Mi viene in mente questa frase, ve la dico in dialetto, nel mio dialetto, io sono calabrese. Si nasci quadrata, un po' mora rotunda. Se nasci quadrata, non puoi morire rotonda. E questo è molto, molto vero. Quello che succede nella vita è che noi facciamo di tutto, se nasciamo appunto quadrati, a stringerci, a piegarci perché vogliamo essere rotondi e sprechiamo molte, impieghiamo molte energie a fare questo. Ma se la stessa quantità di energia e di attenzione noi la mettessimo nel studiare il nostro essere quadrati, nel capire quali sono le qualità, quali sono le possibilità e rafforzare quelle, sicuramente noi saremmo originali. Noi ricerchiamo sempre l'originalità, vogliamo sempre essere speciali e vediamo sempre fuori da noi questa specialità. Quando invece siamo già speciali per quello che siamo, è solo che non diamo spazio, non diamo possibilità al venire fuori. Che poi sembra un paradosso, no? Cerchiamo di essere sempre speciali, però poi ci vogliamo conformare a, vogliamo essere uguali a quello piuttosto che a quell'altro. Come si suol dire, l'erba del vicino è sempre migliore. Esatto. Tu eri un'esperta, vero? Di detti. Ok, mi ricordavo queste cose. Mi fanno divertire sempre un po' i proverbi e i detti. Sì, l'hai detto benissimo. Ma, allora, altra domanda. Io mi sono preparata una serie di domande perché l'argomento è caldo. Per una comunicazione efficace e coinvolgente, qual è il ruolo che ha il pubblico? Cioè, con quanta percentuale facciamo noi e quanta fanno gli altri, fanno quelli che ci ascoltano? Cioè, dipende tutto da noi, ottenere una comunicazione efficace, coinvolgere il pubblico, far divertire, far arrivare il messaggio o comunque anche gli altri dovrebbero fare la propria parte? Allora, mi piace molto questa domanda. Noi ovviamente abbiamo il dovere e il diritto di fare il meglio a nostra disposizione in quel momento, in quel momento, senza poi doverci giudicare in maniera massacrante dopo. Ma, io sono molto convinta dell'importanza in ogni atto della cooperazione, della corresponsabilità. Il pubblico ha un'importanza fondamentale. Quando noi siamo pubblico, appunto, possiamo lavorare già su noi stessi quando ci capita di essere pubblico. allenarci ad essere anche meno giudicanti, oltre ad essere, come dire, uno strumento utile a noi, perché se smettiamo di giudicare gli altri ed essere così duri, saremo anche più dolci e più pazienti con noi stessi. Ma, quando siamo in una comunità, la nostra presenza comunque va a collaborare, a creare un campo energetico, un tutto. E quindi io devo sentirmi responsabile della mia presenza. In che senso? Ovviamente il pubblico, il suo ruolo non è quello di parlare in quel caso, ma di ascoltare. Sembra una cosa banale ascoltare, invece c'è molta differenza tra un ascolto attivo o un ascolto, come dire, passivo. Sono lì e delego tutto alla persona che in questo momento sta comunicando. In qualche modo devo sviluppare anche un senso di gratitudine nei confronti della persona che sta cercando, nel bene o nel male, con le possibilità che ha in quel momento, di donarmi qualcosa. Io credo che se iniziamo ad essere un pubblico attivo, un pubblico che sa ascoltare, sicuramente diventeremo anche migliori comunicatori, parlatori, anche quando saremo dall'altra parte. Ecco, dobbiamo sviluppare l'empatia, il sentirci vicini, la vicinanza. Che poi troppo spesso pensiamo, nel momento in cui appunto c'è una persona che ci sta parlando e noi siamo parte del pubblico, pensiamo proprio per il fatto che quella persona sta lì, deve parlare in maniera eccelsa, deve coinvolgerci, deve essere brillante. Però magari quella persona sta lì, non perché sia il suo hobby preferito parlare in pubblico, perché, non lo so, mi viene in mente, ecco, in un ambiente lavorativo, cioè non per tutti, insomma, questa è proprio una passeggiata, però comunque ci si ritrova a doverlo fare, talvolta. Dobbiamo doverlo fare, certo. Quindi, ma, aspetta, sto cercando le parole. Ottima cosa, se dovesse succedere così, ottima cosa, se dovesse succedere così, mentre stiamo parlando in pubblico, panico, no? Invece, allora, veramente, darsi la possibilità di pensare. Quando noi guardiamo una persona pensare, la sua presenza cambia, ma anche la nostra attenzione cambia. Se tu adesso ti prendi quell'attimo di tempo proprio per dare tempo alla tua mente di compiere un pensiero e di seguirlo, io sono convinta che nessuno, né io, né chi sta ad ascoltarci in questo momento, metterebbe, cioè, nella sua testa, chissà, quali pensieri. Perché tu, in questo modo, saresti presente nel qui e ora a risolvere il tuo problema attuale, che è quello, devo ritrovare il filo del mio discorso. Cosa ti aiuta questo anche, adesso ti dico questo piccolo trucchetto, che a me aiuta tantissimo. Senti bene i piedi a terra, il radicamento. Quando ci sono dei momenti in cui veramente perdiamo l'equilibrio, no? Il radicarci a terra, io in questo momento vi confesso che sono scalza. E quando lo posso fare, io lo faccio perché veramente il radicarci a terra, e il poter dare un equilibrio fisico, poi dà anche un certo equilibrio alla nostra mente. Quindi, prova. Sto mettendo i piedi per terra. Sentili bene, fuori e stabili. Allora, quello che ti volevo chiedere era se la nostra difficoltà nel parlare in pubblico dipende soltanto da noi, nel senso dalle nostre insicurezze, timidezze, tutto quello che c'è dentro di noi, o dipende anche dal fatto che non siamo mai stati veramente abituati a farlo. Cioè, io perlomeno, né a scuola, né da nessuna parte, a parte appunto, che ne so, le interrogazioni, questi momenti in cui per forza devi parlare, però non c'è mai stato un approccio, diciamo, di insegnamento anche a come parlare, a come impostare, non lo so, la voce, tenere una presenza. Cioè, è sempre un po' tutto così. Per caso è un po' forse dato per scontato. Io credo che se noi digitiamo su Google la parola, diciamo, le parole parlare in pubblico, vengono fuori una quantità abissali di notizie, di corsi, di informazioni. Però, quanto in realtà, quanti in realtà sono i corsi che abbiamo seguito in questa direzione? Probabilmente ciascuno di noi ci avrà sempre pensato, no? Però forse non l'ha mai fatto. Il fatto di non essere abituati ad allenare, quindi io penso proprio all'inserimento di una materia del genere a livello scolastico, ma non alle superiori. Io partirei dall'asilo, considerando che sono i primi cinque anni, diciamo, gli anni fondamentali in cui si gettano le basi cognitive, comportamentali, emotive, di un futuro piccolo grande uomo e piccola grande donna. Qualche mese fa mi sono confrontata anche con un preside in pensione, ma un preside molto illuminato, impegnato in molti progetti europei, e quindi mi capita spesso di andare all'estero. Dice, per i studenti all'estero è normale misurarsi, imparare, studiare, allenare, parlare in pubblico. Qui da noi non è così scontato. Ci ritroviamo appunto a dover vivere le nostre interrogazioni, le letture ad alta voce, gli esami e tutto, e poi nel lavoro ancora di più i colloqui, però rimane come qualcosa, da una parte forse viene data come prescontato, no? Cioè tu sei un essere sociale che sa parlare, sai comunicare, tutto sommato, dai, vai lì e qualcosa la fai. Però io sono convintissima dell'utilità che potrebbe significare immettere questo tipo di allenamento, di studio appunto da bambini. Io questa riflessione l'ho fatta soprattutto in questi ultimi mesi, dove le nostre modalità comunicative ovviamente sono cambiate e ci aspettano delle sfide importanti, insieme a tante altre sfide ovviamente che questo periodo ci ha regalato. e uno di questi è proprio, secondo me, il cambiare, più che cambiare, porre di nuovo attenzione alla comunicazione, farla ridiventare la possibilità di quegli atti rivoluzionari, no? Che ognuno di noi in fondo sente la necessità di voler fare qualcosa. e ti senti anche un po' frustrato perché dici, vabbè, io non sono un politico, non sono questo, non sono quell'altro. E io credo che nella comunicazione, nell'atto comunicativo, che poi è mettere in comune, comunicare, mettere in comune, che noi possiamo sperimentare il nostro essere attivi in una collettività, prenderci la nostra responsabilità. perché voglio credere che anche, che ne so, in un supermercato, se io dico in un certo modo, con una certa attenzione, con una certa delicatezza, scusi, vorrei un chilo di pane, io credo che già nell'esperire queste semplici comunicazioni quotidiane, ma con la giusta presenza, possano avvenire quei piccoli che poi diventeranno grandi cambiamenti. E quindi, come dire, la sfida che vi pongo, insomma, stasera è questa, da domani, quando andrete anche in un supermercato, veramente come dei cani cercatori di tartufo, andate a ricercare, andiamo a ricercare, proprio tutte le situazioni dove noi possiamo comunicare, dove possiamo sperimentare, allenare il nostro parlare in pubblico e cominciare, come dire, ad alzare un pochettino più la voce, a scandire un pochettino di più il nostro dire. Posso dire, scusate, vorrei un chilo di pane, e non si capisce cosa ho detto. Oppure, l'apertura, cioè proprio invece di, anche distratti, perché noi, sì, un chilo di pane, sto già pensando, ah, devo prendere anche il riso, devo prendere anche l'olio. No, in questo momento, io chiedo a te, guardare negli occhi, la persona che sta lavorando in quel momento per noi. E sono piccoli gesti, veramente, di una semplicità disarmante, ma, io, cioè, mi piacerebbe, se qualcuno di voi, insomma, nei prossimi giorni, ha voglia di fare questi esperimenti, magari ci scrivete, quali sono state... prendete nota, già due allenamenti, uno sotto la doccia, uno sotto la doccia. Comunque, cose, cose molto semplici, non, non, non vi sto, appunto, chiedendo, andate a pescare, il famoso di, no, nella vostra, nella nostra quotidianità, l'esperienza, nella quotidianità, diventa maestra, veramente. Torno un attimo indietro, al fatto dell'allenamento, a scuola, proprio a parlare in pubblico, e ti volevo chiedere, potrebbe darsi che questa, diciamo, il fatto che, appunto, non siamo abituati a parlare in pubblico, sia anche collegato al fatto che, nella cultura scolastica, accademica, italiana, tendenzialmente non c'è, manca anche il lavoro di gruppo, cioè, ad esempio, io questa cosa, è poco che la trovo, nel senso, comunque, tutti gli anni di scuola, più tutti gli anni di università, sì, c'è l'idea del lavoro di gruppo, però non è mai, impostata come nella cultura di altri paesi, può esserci una relazione tra queste due cose? Sì, guarda, sicuramente, perché ritorniamo veramente a quello che dicevamo all'inizio, cioè, parlare in pubblico e proprio condividere, abituarsi a comunicare, per esempio, la comunicazione tra pari, è fondamentale anche a livello formativo, riuscire ad impostare appunto all'università o anche prima, proprio dei gruppi di lavoro dove ci possa essere proprio uno scambio, uno scambio di pensieri, di visioni, di anche comunicare le proprie emozioni, se pensiamo a quanto poco si faccia a questo, quanto poco siamo abituati a comunicare quello che proviamo, io credo che veramente si possano aprire non delle porte, dei portoni, quindi sono concorde con te nel dire che il lavoro di gruppo, la condivisione possa facilitare tantissimo questo nostro, trovare un agio in questo atto del dire, del comunicare in mezzo a più persone e a più persone. Immaginavo la tua risposta. Allora, vado veloce che il tempo scorre e ho altre domande perché sono troppo curiosa. Allora, ti volevo chiedere, innanzitutto come possiamo cercare di scardinare, diciamo, questi schemi mentali che ci siamo costruiti e che ci limitano a volte, se c'è qualche consiglio che tu ci puoi dare. Ma quello di, allora, il consiglio principe ovviamente è quello proprio di, di allenarsi il più possibile, di proprio attivare dei percorsi di processo, quello che abbiamo detto fino adesso. Però, per esempio, sul cambiare il nostro modo, il nostro modo di pensare, noi lo possiamo fare attraverso, abbiamo vari strumenti. uno è quello anche il linguaggio. Noi possiamo cambiare il nostro modo di usare le parole. Mi viene in mente quando noi dobbiamo, come dire, dare un feedback alle nostre performance, oppure quando dobbiamo descriverci. Noi tendenzialmente, a me, mi è capitato sia personalmente, sia quando appunto durante i corsi, mi capita di ascoltare gli altri, che utilizziamo, per esempio, un linguaggio molto statico, molto etichettante, usiamo molto il verbo essere, sono un incapace, sono timido, sono insicuro, e ci appiccichiamo a queste belle etichette, per il quale davanti a, è difficile, rimangono lì, perché il verbo essere è un potente, è potente, e invece per esempio, abituarci pian piano ad andare verso un linguaggio più dinamico, più processuale, che questo vuol dire ovviamente più impegno, perché, come dire, per dire la stessa cosa, dobbiamo usare una perifrasi un po', un po' più ampia, però ci diamo la possibilità di aprire, di non ingabbiare, né noi stessi, né gli altri, ci lasciamo delle possibilità, a delle intuizioni, e questo ci aiuta ovviamente a cambiare quelle convinzioni, a crearcene delle nuove. Osservare i nostri pensieri, come li osservo? Quello che capita spesso, sia per quanto riguarda le emozioni, che i pensieri, è che noi ci identifichiamo, sia con i pensieri, che con le emozioni, in qualche modo, non è difficile riuscire ad essere degli osservatori. Invece, allenarci a, come dire, a capire, a sentire, a riconoscere qual è il nostro pensiero, ed osservarli da fuori, diventa molto interessante, proprio in virtù di un cambiamento nel nostro modo di pensare. C'era un piccolo esercizietto che mi era venuto in mente da fare, magari dopo se abbiamo tempo, lo facciamo insieme. Se no poi vi do, il compito da fare a casa. Un altro strumento che noi abbiamo a disposizione è il corpo. Cioè, noi attraverso il corpo possiamo creare grandi cambiamenti, perché non dimentichiamoci la relazione fondamentale che c'è tra la nostra mente e il nostro corpo. Infatti proprio questo anche volevo chiederti che ruolo ha la consapevolezza barra accettazione che abbiamo nel nostro corpo? Grande tema del... Posso semplicemente ti risponderei tanto, tutto, moltissimo, perché noi siamo corpo, noi ci poniamo davanti agli altri, occupiamo uno spazio, abitiamo degli spazi attraverso una voce, attraverso dei muscoli, degli arti, attraverso uno sguardo, una tessitura vocale. In qualche modo, già solo per il fatto di essere così come sono, io sto mettendo in atto una mia drammaturgia, anche senza parlare, anche se io stessi così, cioè già lì voi potreste creare la vostra drammaturgia. Noi comunichiamo a prescindere delle parole, solo perché siamo. Quello che succede spesso è che questo corpo ci risulta quasi come una cosa estranea, diventa quasi un peso in alcuni momenti da dover portarci dietro. Io penso sempre, non so se vi capita anche a voi, quando magari avete ospiti e c'è quella camera che è in disordine e qui quindi voi vi apprestate proprio a chiudere. In qualche modo, in alcune situazioni, il nostro corpo diventa per noi come quella camera che appena arriva l'ospite e appunto le persone a cui noi dobbiamo parlare vorremmo chiudere la porta e non far vedere tutto il disordine, il caos che c'è, ma ovviamente non ci sono delle porte. Anche laddove parliamo attraverso uno schermo oppure arriva anche solo la nostra voce, che cosa è successo a un certo punto forse della nostra evoluzione? Giustamente ci siamo evoluti nella parte alta e ci siamo sempre più allontanati dalla parte bassa, dal cosiddetto cervello rettile che sta nella zona insomma del sottolombellico, del nostro centro. Ci siamo sempre più allontanati e quasi abbiamo iniziato a disconoscere, a negare questo corpo come se fosse anche qualcosa di vergognoso, no? Perché ci portasse verso il basso, verso gli istinti più animali, invece noi esseri superiori puntiamo, puntiamo, e questo è giusto. però abbiamo cominciato a vedere il corpo come qualcosa di estraneo, ma cosa, io vi chiedo, cosa accadrebbe se noi ritornassimo dentro al nostro corpo, cominciassimo di nuovo ad abitarlo da dentro, a percepirlo da dentro, invece che a percepirlo da fuori. Perché io penso alla mia immagine, ho subito un'immagine da fuori, riflessa, come se fosse uno specchio, e invece se provassimo veramente a sentirlo da dentro il nostro corpo, anche questo allenamento, e niente, la deformazione professionale con come allenatrice vai, no, allora, a parte gli scherzi, è perché come in aula anche stasera mi viene spontaneo e anche con una certa enfasi ed, diciamo, entusiasmo, mi piacerebbe farvi sperimentare delle cose che ho sperimentato e continuo a sperimentare anch'io, perché ci sono state delle cose che veramente mi hanno fatto wow, la sorpresa, la meraviglia, e, come dire, ho la sensazione che in alcune di queste cose possano veramente essere una chiave di apertura per molti, diciamo, non una cosa solo soggettiva, e quindi questa cosa mi piacerebbe veramente proprio farla sperimentare, perché le volte in cui appunto capita questo e io vedo la persona davanti che ha questa meraviglia di scoprire una voce diversa, una voce diversa, di scoprire la sua vera voce, oppure di sentire il corpo in maniera diversa, di essere presente in maniera totalmente diversa, per me è un'emozione altissima, e quindi, direi anche un perfetto stile creo, dare sempre strumenti per crescere poi alla fine, quindi, ok, grazie, non so che ore abbiamo fatto, è ora di leggere qualche domanda, ok, allora, Luca ci chiede, possiamo usare i nostri difetti, difetti di pronuncia, balbuzie, come strumenti di seduzione in pubblico? Ok, allora, come dicevamo prima, riguardo al tirar fuori la nostra originalità, sicuramente degli aspetti, come possono essere dei difetti di pronuncia e di balbuzie, sono sicuramente una nostra caratteristica, l'unica cosa che mi viene da dirti Luca, di ripensare a qual è l'obiettivo della comunicazione, è quella di riuscire a mettere in comune nella maniera più efficace, cioè di prendermi cura del contenuto, allora, mi devo semplicemente chiedere, questo difetto di pronuncia, questa balbuzia, va, come dire, a rendere meno scorrevole questa cosa o no? In che misura va ad influenzare appunto il porgere il contenuto a qualcun altro? Io credo che per quanto riguarda la pronuncia e le balbuzie o altri piccoli difetti, come può essere appunto anche una cadenza più dialettale, io inviterei a, in qualche modo, a renderle, a renderci più neutri possibili per poi poter utilizzare questi, quelli che noi chiamiamo difetti, veramente come strumento di seduzione e metterceli nel momento giusto proprio perché vanno magari a sottolineare, a dare forza al nostro contenuto, diventano strumenti di espressività, quindi non essere vittima, non essere di quei difetti, ma utilizzarli proprio come capacità e modalità espressive. quindi imparare a giocarceli, tipo a giocarceli, sì, a vincere, sì, poi Mario ci chiede, ci sono dei consigli su come affrontare una platea, per esempio dove volgere lo sguardo? Sguardo, allora Emma, aggiungo io, non vi dire, non vi dire, immaginatevi tutti in mutande perché con me non funziona, quindi mi darò un altro consiglio. No, sono arrivati veramente sia quello dello sguardo che la tua delle mutande, allora iniziamo con questo fatto dello sguardo, così rispondiamo subito a Mario, allora ovviamente più la platea si allarga più diventa molto complicato riuscire a guardare tutti, però dobbiamo capire quanto è importante lo sguardo, lo sguardo e il ponte è quello che ci crea contatto con l'altro o gli altri per cui io non mi sento di dire e né quando mi è capitato appunto di avere magari una platea numerosa di far finta di guardare a destra o a sinistra o di ma noi abbiamo a disposizione l'intenzione veramente proiettarci verso fuori e quindi sentire comunque una platea anche se non riusciamo ovviamente a guardare individualmente le persone però sentire tutte le parti della nostra platea cercare di coinvolgere tutto il pubblico perché come noi abbiamo bisogno di approvazione di esserci di sentirci coinvolti anche chi sta nel pubblico si vuol sentir partecipe quindi veramente guardate realmente con la vera intenzione di creare un contatto visivo seppur appunto impossibile farlo personalmente mentre questo dell'immaginare il pubblico in mutande è uno dei consigli più gettonati per io se non sbaglio credo che anche Harry Potter avesse tra i tra i suoi tra le sue magie un incantesimo mi sembra che si chiamasse Ridiculous qualcosa del genere immaginare appunto il nemico in sembianze comiche appunto tipo con dei grandi piedoni dei ragni oppure vestito da nonna anziana adesso ho dei ricordi un po' quindi sicuramente io dico allora questo ognuno sperimenta se può essere utile quello che però prenderei da questo consiglio è il senso di ironia di gioco di leggerezza che noi non dobbiamo cioè dobbiamo cercare di non dimenticare in fondo cioè dobbiamo prenderci un po' meno sul serio perché la leggerezza non vuol dire essere superficiali ma essere semplicemente più profondi in una maniera più più diretta e anche più efficace credo quindi sì di questa delle mutande io prenderei l'ironia e il senso di gioco tra l'altro mi è venuta in mente una frase che Lessi non lo so una volta che diceva prendiamoci meno sul serio tanto tipo dalla vita nessuno ne esce vivo una cosa del genere infatti quello è vero insomma come tutti prima o poi ci tocca è vero Alessia invece ci chiede vorrei sapere una cosa quando si parla in pubblico di solito ci si prepara il discorso come se fosse una lezione poi ovviamente si adatta alla situazione però allora Alessia vediamo cerchiamo di interpretare no no forse era una allora quello che immagino tu voglia portare l'attenzione su quello che tu voglia portare l'attenzione è il fatto che la preparazione è fondamentale nel senso che sembra una cosa scontata ma quando si parla di preparazione e qua riprendo un po' il termine dalla mia esperienza teatrale le prove cioè noi quando facevamo le prove cioè faticavamo ma molto più che andare in scena cioè io mi ricordo i momenti di prove come cioè un dispendio eravamo totalmente lì presenti ovviamente quando noi ci prepariamo dei discorsi magari scriviamo prepariamo le slide però non è che ci mettiamo proprio a provare realmente ad alta voce e quindi in questo caso Alessia sì alcune volte non alcune volte è sempre importante proprio provare esercitarci allenarci come forse una lezione ma non a memoria non come un copione perché neanche neanche gli attori alla fine imparano e vanno lì a dire a memoria anzi dirò di più che come nel teatro ma nella vita gli imprevisti e vivere il presente sono i grandi suggeritori sono quelli che sono veramente gli elementi che ci spingono a svoltare la situazione a renderla più comprensibile quindi sicuramente come anche diceva Tutò l'improvvisazione non si improvvisa cioè io io devo devo avere il più chiaro possibile il mio contenuto scegliere le parole verificarlo sentire la mia voce come il mio corpo sentire quella condizione del dire e se io faccio questo lavoro sono straconvinta che poi il presente ci risulti amico e non nemico mi trovi d'accordo di essere stata insomma in linea con quello che Alessia ci chiedeva credo di sì Laura invece ci chiede perché non strutturare dei corsi apposta per imparare ad ascoltare possibile nuova strada per creare guarda allora per ovviamente diciamo in questo in questo contesto non abbiamo parlato tanto proprio di come avvengono delle lezioni però in aula io riservo moltissimo spazio proprio all'ascolto sia all'ascolto di se stessi che all'ascolto dell'altro e quindi guarda Laura mi trovi cioè proprio super super contenta di questa di questa tua domanda di questa tua considerazione e sì quindi sarebbe proprio bello progettare degli interventi formativi ma già ce ne sono diversi però sempre più specifici sempre più strutturati andare a scoprire anche modalità per poter allenare l'ascolto anche andando a toccare materie molto lontane e anche attraverso l'esperienza cioè i nostri sensi ascoltare attraverso il tatto ascoltare attraverso l'udito ascoltare attraverso la vista ascoltare non è solo ascoltare attraverso l'udito si aprono veramente Laura grandi possibilità grazie che poi proprio l'ascolto forse è quello che facciamo di più ma che se accediamo di meno perché magari comunque è un senso innato tendenzialmente però quello che dicevamo prima io credo che siamo degli esseri molto distratti e facilmente distraibili e quindi come dire questo allenamento all'attenzione anche è fondamentale è fondamentale proprio per la nostra crescita per la nostra evoluzione proprio come specie umana e poi forse allenandoci proprio sul famoso qui e ora citate ricitate potremmo alla fine anche migliorare l'attenzione che il nostro interlocutore ci riserva perché a volte noi diciamo ma tu non mi ascolti mai però magari non è effettivamente è solo colpa dell'altro magari siamo noi i primi a non essere del tutto presenti e quindi poi la comunicazione ne risente certo no no questo hai ragione bianca come cioè noi ci sono i neuroni a specchio ci influenziamo a vicenda e se io mi pongo davanti a te così non presente e inevitabilmente dopo un po' tu vabbè ok e quindi cosa cosa dobbiamo fare e comincerai o ad innervosirti per dire oh siamo io e te qui davanti dove sei oppure comincerai anche tu a viaggiare per altri vidi verso altri vidi eh già perché la mente birichina è una scimmietta insomma che ci dà ci dà da fare quindi dobbiamo sempre dargli un po' dei compiti ovviamente ecco perché vengono sempre le esercitazioni da darmi ma invece Emma ti va di raccontarci se ce l'hai una figuraccia che hai fatto in pubblico se ti è capitata un'esperienza che diciamo non vorresti ripetere ecco che non vorrei ripetere allora sicuramente questo la ripeto la ripeto spesso diciamo che come dire l'esperienza in questo caso non insegna e conosco sempre per fare degli errori e lo riguardo parlavamo dei proverbi prima ecco io sono bravissima a modificarli proprio ma vado anche con convinzione e più di una volta mi è capitato in pubblico di prendere appunto l'esempio del proverbio io bella convinta e detto stravolgendolo proprio stravolgendo che adesso veramente ne ricreo che poi se mi vengono in mente ve li dico e questo è stato veramente la sensazione diciamo che spero ogni volta di non rifare perché invece ci ricado sempre però potrebbe potrebbe anche diventare un momento divertente un momento che unisce con il pubblico quello quello sicuramente perché in fondo c'è l'errore no un po' quello che definiamo errore in precisione secondo me avvicina un po' è solo che è difficile per noi accettare queste cose non essere perfetti andare a sbagliare appunto cavolo sei laureata e vai a sbagliare il proverbio ti inventi delle parole cavolo dici con le convinzioni perché se sei laureata allora devi parlare perfettamente non ne devi sgarrare una e invece può capitare però però questo guarda sì Bianca hai detto una cosa molto molto saggia il fatto che quell'imprecisione in fondo è quello che un po' seduce e quindi ci ritorniamo anche a Luca mi sembra non mi ricordo se era il nome giusto delle balbuzie del ecco in questo senso l'imprecisione può diventare vicinanza quindi siamo ritornati anche alla domanda di prima vero senti che ne dici questi ultimi minuti un gioco un esercizio così al volo un esercizio al volo ok allora io vi vorrei proporre questo questo piccolo esercizio per 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 cominciare ad osservare i vostri pensieri ok quindi molto semplice immaginate di essere come il topo il gatto scusate fuori dalla tana del topo ok quindi voi se volete chiudete chiudete gli occhi per concentrarvi un attimo e che cosa chiedete alla vostra mente adesso vediamo quale sarà il mio prossimo pensiero come dire come il gatto che sta fuori dalla tana e dice vediamo adesso quale sarà il prossimo topo che esce fuori provate a fare questo esperimento se lo volete fare adesso o poi insomma dopo che sarà finita la diretta provate veramente a chiudere un attimo gli occhi a essere un attimo tranquilli e stare lì in attesa chiedendovi quale sarà il mio prossimo pensiero quale sarà il mio prossimo pensiero poi vedete cosa accade ovviamente fateci sapere e quello che non so se dirvelo prima sarebbe bello che voi riusciste a sperimentarlo per non condizionarvi quello che dovrebbe capitarvi è di esperire una piccola pausa di silenzio in cui magicamente non arrivano non arrivano pensieri all'inizio magari può essere una frazione di secondo ma quella pausa di pensiero vi ha reso osservatori quella pausa tra un pensiero all'altro è il vostro vero essere è lì che si apre tutta la possibilità creativa che abbiamo e in quella in quella pausa che da lì possono emergere idee possono emergere parole possono emergere visioni e quindi come dire sentitevi spesso il gatto con il topo ed esercitatevi veramente a stare nel silenzio noi nella comunicazione abbiamo scritto vincere il silenzio e per e poi quindi riuscirsi a buttare io aggiungo vincere con il silenzio fare abitare il silenzio la quiete e lasciare che da quell'attimo emerga emergano le risposte che noi tanto cerchiamo alle nostre domande affidarci a quell'attimo di pausa risposte che poi cerchiamo sempre fuori magari ce l'abbiamo dentro ce l'abbiamo dentro quindi ultimo compito vi aspettiamo nei commenti sotto la diretta anche nei prossimi giorni sì se avete a me fa piacere anche se nei prossimi giorni vi restano comunque degli echi dentro e vi sorbono altre domande mi farà piacere davvero tanto continuarmi a confrontare con voi e darvi insomma delle risposte o porvi altre domande porvi altre domande a domande a cui trovare voi una risposta ultimamente sto facendo la raccolta di tutte le domande salvavitta prima o poi forse pubblicherò in base ai vari accadimenti sto raccogliendo tutte le domande che o altre mi fanno che io stessa faccio a me stessa e le chiamo le domande salvavita piuttosto che trovare le risposte mi sto esercitando a trovare domande le domande insomma vi farò molto di me se non è male va bene ma io ti ringrazio tanto veramente mi sento senza di aver imparato cose cose utili che posso applicare provare ad applicare già da subito se posso essere stata di aiuto guarda sono super super felice mi sento super felice e grazie veramente per le tue domande che sono state molto apprenti veramente anche per il tuo esserti messa in gioco nel condividere le tue sensazioni le tue esperienze quindi grazie e grazie anche a tutti voi che siete stati in nostra compagnia e vi aspettiamo insomma anche per i prossimi incontri infatti dal 5 giugno dal 5 giugno partirà appunto maestri fuoriclasse versione web ovviamente per la situazione storica che stiamo vivendo con molti ospiti veramente eccezionali che parleranno e ci daranno molti altri input per continuare i nostri allenamenti vero confermo grazie veramente grazie Bianca grazie a tutti buona serata